Chiaramente ormai la deriva estremistica che Netanyahu ha dato a questo conflitto imbarazza gli Stati Uniti. Se la politica in qualche modo si rassegna esclusivamente alla logica delle armi ha perduto la sua funzione e l'Europa in qualche modo perde la sua funzione. Io vedo dietro questa retorica il tentativo, diciamolo molto francamente, della Francia di sostituirsi agli Stati Uniti e noi non vogliamo un'Europa che sia a egemonia francese. Ponelevo Orlando, buongiorno. Lei è stato a Rafa nelle scorse settimane con altri parlamentari. Cosa vi ha lasciato l'esperienza sul piano umano, immagino, ma anche politico? Sicuramente un conto è sentire e raccontare le cose, è un conto vederle, viverle. Abbiamo incontrato persone che ci hanno raccontato storie durissime. Mi ricordo di una madre che ci raccontava che era in un ospedale al Cairo, una madre palestinese, che aveva un bambino che aveva perduto una gamba e aveva un'altra bambina ricoverata nella stessa megalopoli, ma in un altro ospedale. E poi aveva due bambini che erano ancora a Rafa e ne aveva notizie ogni due o tre giorni perché le comunicazioni sono spesso interrotte. E poi dal vivo abbiamo visto alla frontiera gli aiuti fermi e politicamente ne è emersa una cosa che in qualche modo in questi giorni si è fatta più chiara e anche all'opinione pubblica occidentale, cioè che c'è un problema di approvvigionamento. E' una società che per una serie di ragioni, una piccola porzione di territorio che è sostanzialmente chiusa da tutte le parti, non ha una vera e propria economia, è sostenuta dagli aiuti internazionali. E oggi gli aiuti internazionali sono bloccati. E in quella porzione di territorio di cui stiamo parlando sostanzialmente sono saltate tutte le attività, quella sanitaria, quella scolastica, la sicurezza, la raccolta dei rifiuti, l'approvvigionamento alimentare, quindi la gente ha fame e quindi la gente muore perché non è curata anche per patologie tra virgolette normali, ipertensione, diabete, oncologici, ecco tutto questo non è più curato. Adesso poi incomincia il tema della malnutrizione. Quello che mi interessa e che ci è interessato con questa visita è mettere all'attenzione diciamo dell'opinione pubblica che oltre alla strage che viene prodotta dai bombardamenti c'è quest'altra strage silenziosa. Le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione per chiedere cessate il fuoco. Secondo lei che conseguenze potrà avere anche sul piano concreto? Nell'immediato non lo so, politicamente è una cosa molto importante perché gli Stati Uniti per la prima volta prendono le distanze dal governo di Netanyahu. Questo è un dato di grandissima rilevanza. Chiaramente ormai la deriva estremistica che Netanyahu ha dato a questo conflitto imbarazza gli Stati Uniti. Si apre alla prospettiva del fatto che le grandi potenze a partire dagli Stati Uniti possano svolgere un ruolo per cercare una soluzione che intanto passa per il cessato il fuoco e che poi speriamo possa dare un minimo di stabilità. Credo che questo consenta anche all'ONU di svolgere una funzione che fino a qui oggettivamente non ha potuto svolgere. Lei è sembrato di vedere segnali o conferme anche nel suo periodo in quella zona dell'ipotesi del governo israeliano di deportare la popolazione di Gaza in altri paesi? Guardi, io non voglio fare ipotesi. Mi limito a dire che se porti un milione e duecentomila persone in un'area che precedentemente era abitata da duecentomila non fai arrivare più gli aiuti. Una pressione implicita perché quell'area sia abbandonata è assolutamente deducibile. Molti Stati europei, anche la stessa Unione Europea, hanno ripreso a finanziare l'Agenzia delle Nazioni Unite per il supporto ai rifugiati palestinesi. Il governo Meloni invece no. Come valutate questa decisione e cosa intendete fare eventualmente per provare a cambiarla? Noi dobbiamo far cambiare questa posizione perché è un errore. Un errore tra l'altro che mette l'Italia in una posizione che non è quella dell'Italia. L'Italia è sempre stato un paese che è riuscito a parlare con tutti ed è stata utile alla soluzione di molti dei passaggi storici di questa crisi infinita che caratterizza il Medio Oriente perché parlava con tutti. Cerchiamo di spiegarlo perché il racconto che è stato fatto qui nel nostro paese è abbastanza parziale. L'Agenzia che si occupa di palestinesi non è una gentile concessione che è stata fatta. Quando è stato riconosciuto lo Stato di Israele si sono spostate milioni di persone e l'ONU ha pensato di creare una sorta di surrogato di uno Stato attraverso questa agenzia. Questa agenzia, l'Urwa, è un'agenzia che recluta chiaramente tra i palestinesi decine di migliaia di persone. Ora, in queste decine di migliaia di persone ci sono 14, 15, non mi ricordo, persone che sono coinvolte con la strage di Hamas. Queste persone devono essere punite, ma questo non significa che tutta la struttura sia nelle mani di Hamas. È come se da noi, non so, noi siamo un paese dove ci sono stati servizi deviati, ci sono stati parti delle forze dell'ordine coinvolte o delle forze armate coinvolte in colpi di Stato. Nessuno gli è mai venuto in mente di sciogliere i ministeri o di sciogliere i corpi dello Stato. Questa struttura tiene in piedi gli ospedali, tiene in piedi le scuole, gestisce gli aiuti che non possono anche qui, uno dovrebbe andare oltre le immagini, se tu gli aiuti anziché distribuirli in modo ordinato li lanci da un aereo, ma chi li va a prendere quelli di i più giovani, i più forti, i più prepotenti, quelli che sono armati e tagli fuori la popolazione più vulnerabile, quella che probabilmente ne ha più bisogno. Quindi ripristinare il funzionamento di questa grande agenzia è un modo per contenere gli effetti di quel disastro umanitario che si sta determinando. Quindi l'Italia deve cambiare posizione, ma non per ragioni ideologiche, ma per ragioni molto pratiche, perché queste persone se no vogliono rifanno. Il clima politico nei confronti della guerra è cambiato, lo stesso ministro Crosetto nei giorni scorsi ha confermato l'intenzione di fornire più uomini all'esercito. Lei parlando di Europa ha detto che l'Unione Europea non si deve rassegnare a un'economia di guerra, è un'idea molto ampia, però ci può spiegare che cosa intende. Dire che noi dobbiamo entrare nell'economia di guerra significa sostanzialmente che ci rassegniamo una cronicizzazione della guerra, politica, mentre l'Europa deve avere un'ambizione più alta, che è quella di trovare un nuovo ordine dopo che è franato quello che in qualche modo si era determinato con la fine dell'Unione Sovietica e col crollo del muro di Berlino. In questo sforzo io penso che ci sia un lavoro enorme da fare per coinvolgere la Cina, per coinvolgere l'India, per dare un protagonismo nuovo anche agli Stati Uniti, che consenta appunto una risposta diplomatica a ciò che in qualche modo fino qui è stato affrontato soltanto con la logica delle armi. Non è il mio pacifismo, è un'affermazione del primato della politica. Se la politica in qualche modo si rassegna esclusivamente alla logica delle armi ha perduto la sua funzione e l'Europa in qualche modo perde la sua funzione, perché l'Europa ricordiamo nasce prima di tutto come soggetto che vuole evitare le catastrofi del secolo scorso. Poi noi non possiamo pensare che abbiamo scherzato, fino a qui abbiamo detto transizione ecologica, transizione digitale. Se l'Europa si piega a una logica di economia di guerra, come ha detto questo simpaticone del Presidente del Consiglio Europeo belga, il signor Michel, se ci pieghiamo a questa logica noi abbandoniamo tutti questi obiettivi. Cioè saremo una parte del mondo che dopo essere stata molto avanti rispetto agli altri torna indietro. E questo io credo che non lo voglia nessuno. La guerra, anche questa la risposta alla Russia, è una necessità di una contingenza. Io vedo dietro questa retorica il tentativo, diciamolo molto francamente, della Francia di sostituirsi agli Stati Uniti. E noi non vogliamo un'Europa che sia a egemonia francese, vogliamo un'Europa che invece sia un soggetto che anche con una propria forza militare è in grado di costruire però un equilibrio di pace. In conclusione, il 2024 è un anno di elezioni, quindi richiedo da una parte come arriva il PD alle europee dopo più di un anno di segreteria a Schlein, dall'altra come giudica la difficoltà a trovare un asse con il Movimento 5 Stelle in alcune elezioni regionali. Io credo che il PD è stato a rischio come progetto politico e credo che il merito della segretaria Schlein sia quello di aver risposto a questa crisi, averlo rilanciato e averlo anche rimesso al centro di una coalizione. È necessario fare un lavoro ognuno, diciamo, di riflessione su quali sono i punti fondamentali su cui si vuole costruire questo progetto. Io credo che non sia un lavoro difficilissimo, perché i temi sono questi, la pace, la transizione ecologica, la lotta alle diseguaglianze, chi vogliamo aiutare e chi vogliamo combattere, quali sono le rendite, quali sono i privilegi, quali sono le grandi ricchezze che si sono accumulate e che crediamo debbano essere redistribuite. Questo significa, è davvero questo appunto, non vale per il PD, un po' meno tatticismo. Non è che io ci sto quando mi conviene, quando non mi conviene, invece me ne vado per i fatti miei, perché di fronte a quello che sta avvenendo, di fronte a un mondo in fiamme, di fronte a una destra che vuole far passare per pazzi i magistrati che ritiene siano scomodi, non è che puoi dire, questa volta, in questa regione la cosa non mi conviene. Devi provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ponendo tutte le questioni che tu devi porre, ma a questo punto però anche facendolo in modo stabile, non in modo occasionale.